Siamo qui a Guidonia Montecelio, un centro sportivo in costruzione, eccolo qui, lo vedete davanti a voi, ci troviamo diciamo alla periferia di Guidonia Montecelio, sia a Montecelio, qui alla destra, che a Sant'Angelo, a sinistra, qui siamo dietro al Cinema Planet, di Space, di Guidonia, e qui vediamo queste belle strutture moderne, di grandi volte, e dovrebbe essere un centro sportivo ovviamente fatto rigorosamente con un travertino della zona, come possiamo vedere, molto bello, è ancora in fase di costruzione, dovrebbe essere ferma, perché in mezzo non si vedono lavori, andiamo a vedere a che cosa sarà dedicato e altre angolature di questo centro sportivo importante qui a Guidonia Montecelio, andiamo a vedere.